Con Lapo Salvetti, coach dell'Enic Firenze, per il post sconfitta contro Valsesia, ma era una partita difficile soprattutto giocarla senza Galmarini, con Galmarini a mezzo servizio e con i primi muscolari di Macini. I problemi fisici di Galmarini e Macini sicuramente ci hanno condizionato, però non possiamo dare 38 rimbalzi a 21 per Valsesia, è impensabile per noi poter competere con una squadra di questa categoria se subiamo così tanto al rimbalzo. Quindi Valsesia che penso abbia vinto meritatamente, anche perché la nostra percentuale al tiro da tre punti è stata totalmente sufficiente, quindi direi che bisogna cancellare velocemente questa partita, mettersi sotto, allenarsi bene in settimana per cercare di fare meglio sin da domenica prossima. Che cosa è successo in quel parziale di primo quarto in cui purtroppo per una buona partenza è stata azzerata da quel 15-0? Sì, ci siamo completamente smarriti, ci siamo smarriti soprattutto non difendendo e affidandoci soltanto al tiro da tre punti, ripeto, se noi facciamo 1 su 20 al tiro da tre punti non possiamo competere con nessuna squadra del girone, quindi oggi veramente abbiamo mostrato un volto veramente brutto nostro e dobbiamo veramente rimetterci a... dobbiamo cercare di fare una buona partita la prossima giornata. Grazie